Ciao ragazzi che bravo e benvenuti in questa nuova live, la prima dopo tanto tempo, la prima dopo il post storia perché dovete sapere che io il segreto già l'ho fatto, l'ho già registrato, è già pronto, verrà fatto vedere ho già fatto pure i primi reclutamenti che è Wonderbot EU, ho già fatto i video reclutamenti che usciranno di qui fino alla fine di luglio ed eccoci, abbiamo anche finalmente un countdown qui in sotto così potete vedere al secondo spaccato quanto durerà la live in teoria ho messo pure questo view count che devo vedere se funziona o meno perché onestamente vedo ancora 0 quando invece youtube mi dà che siamo almeno, ah no siamo ancora 0 lol però vedo già qualcuno che risponde ma si vede che non si è ancora ben collegato comunque saluto Igna, Capo Non Supremo, As, Salvatore, Mafar, Greg, Boscar e tanti altri tutti quelli presenti qua presenti oggi faremo delle amichevoli dal dottor Cryptix alle amichevoli temporali come vedete ho fatto grado argento perché comunque senza dare il totem perlomeno quando fece queste amichevoli non riuscì ah ecco il view count si è aggiornato, siamo a 92 così posso vedere in diretta senza dover poi andare direttamente sulla pagina di youtube andiamo dunque dal team Zan, ah poi dovrebbe essere cambiata anche tipo le animazioni grafiche di quando qualcuno dona tipo Miche ha donato un CHF e forse dovrebbe comparire qui qualcosa vediamo se compare, comunque siamo già in 104, iniziamo a giocare anche Matteo Lucentini dona, dovrebbe però comparire, spero che compaia qualcosa boh, me lo auguro comunque eccoci qua contro la team Zan no, eccolo ok è comparso, va bene, siamo d'accordo quindi ecco ecco il tank at the mix eh ce l'ho fatta, sono riuscito a farle finalmente queste cose, non vedevo l'ora di poterle fare ringrazio Matteo Lucentini e Miche per aver donato rispettivamente 2,29€ e un CHF che non so cosa sia la nuova Apache Galaxy la proverai del Geniv? onestamente devo ancora scaricarla, sto ancora giocando con la Apache 1.1.b ma tanto non penso di farci un video perché comunque gli aggiornamenti, cioè le cose che hanno aggiornato già le so e sono un pochino di Polina Link, un pochino qualche traduzione di menu insomma nulla di troppo esplosivo però il prossimo update che io sappio dovrebbe essere qualcuno di uno dei più grandi di tutta la storia del Geniv quindi poi vedremo comunque il segreto già l'ho fatto Igna già faccio il segreto mentre U ho già fatto il video che uscirà domani su come reclutare U quindi bene, tra l'altro mi dovete dire se dalla GIF si sente il suono quando qualcuno dona o quando qualcuno non si iscrive tipo ora Miche ha donato altri 2 euro franchio svizzero dovrebbe comparire qua, assolutamente ecco che figata è una figata questa cosa qua, no? è troppo bello è troppo bello spero che si senta ok si sente quindi molto bene non so se è basso o alto non importa comunque si sente e mi piace perché alla fine è giusto modificare anche un attimo le GIF ecco senza scrivere solamente Miche ti ha donato è bello anche vedere questa roba qua Blast come farmi le monete di gioco su DS perché ti ho perfetto 3 giorni su 4 giorni le monete di gioco di che gioco parliamo di tutto fanculo io siamo ancora 0 a 0 siamo ancora 0 a 0 questo è il problema vedete perché poi non riesco a fare più di argento e perlomeno non riuscivo ora vediamo se ci riesco o meno le monete di gioco su Crono Stones le ho fatte inizialmente semplicemente mettendo il DS in tasca poi a una certa avendo comunque troppe roba da prendere con le monete di gioco me le sono citate tramite un software con la console modificata ecco qua nulla peraltro sono vicino a mio nonno di nome Donato puoi urlare il suo nome così si sveglia che dobbiamo andare a fare la spesa fa niente si è svegliato ora non ho capito cioè io avrei dovuto urlare Donato per svegliarlo non ho capito bravo e poi li faccio ho fatto già l'ora ragazzi vi spoilerò una cosa una cosa proprio da ringraziamo i 13.000 iscritti che tra poco li stiamo per raggiungere uscirà poi una live un pochino più particolare non sarà questa ma prima di fine luglio ve lo assicuro anche perché poi il tempo scarseggerà anche a me in cui ho fatto delle guide su come avere tutti i temi tutte le foto e in futuro pure tutti gli oggetti e anche QR code quindi preparatevi a quelle tipo di guide perché usciranno l'hai reclutato Wai? assolutamente no eri un maroku perché non mi serve al momento un portiere in realtà dei portieri qua ce ne sono ben di più forti siamo ancora a 0 cazzo a 0 cerchiamo di fare un minchia di gol adesso quindi evocando il spirito guerriero che Yu adesso ha l'ho mixato con Zanark ma sbagliai perché cioè in realtà non ero sbagliato ma Zanark manco è allenato l'ho messo così pari pari quindi non passa proprio niente non passa e lo volevo fare come prova nulla nulla di che quindi eccoci qua spero di riuscire a segnare con sfera di ghiaccio mossa a catena tra l'altro Yu adesso vi faccio vedere per quanti gol ha fatto ma comincia a essere abbastanza pesante come gol effettuati su Galaxy dicendo che qua c'è la bellissima statistica di gol effettuati da non solo i primi tre giocatori come Cronosonzo ma i primi cento quindi Cronosonzo lo abbandonerai? no non penso in live però sì avete visto ieri uscire Golia Challenge quella sarà l'unica rubrica che sono sicuro che potrà uscire anche mentre di Galaxy cioè per dire arriverò a settembre ancora con Golia Challenge arriverò a ottobre con Golia Challenge insomma basterà avere idee per quella rubrica lì di fatto non è un problema del resto però mi pare di aver fatto già troppe cose su Cronosonzo e vi spoilerò qual è il mio obiettivo il mio stimolo finale su Galaxy e qualcuno qui rabbrividirà perché insomma è un obiettivo non proprio da da due secondi è quello di droppare tutti tutti gli oggetti dalle amichevoli cioè io devo vedere le amichevoli droppate tutti i sei oggetti da ogni amichevoli ho fatto il conto che sono circa boh allora sei per centocinquanta amichevoli quello è il conto quindi saranno novecento oggetti devo riuscire a trovare tutti anche lo spettino privato anche il kebab quello che sia tutto tra l'altro perché non ho fatto gol adesso? avrà fatto sicuramente un 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 coso come si chiama? un critico assolutamente farei a me il tutorial su come sbloccare le stelle 99 su Citra aiuto ma intendi su Cronostones e su Cronostones per sbloccare le abbo bisogna fare il segreto c'è poco da fare tutorial e su Citra non so se si può fare presumo di sì Blast hai mai visto la zoom 11 è un bel cartone animato sì in effetti devo ancora recuperarlo qualcuno mi dice di tirare con la mossa dello spirito ma a parte che non ho più adesso punti spirito di guerriero quindi butto l'armatura però secondo me fa molto di più farlo con la mossa dell'armatura più che con la mossa di spirito guerriero io penso grazie a Raffaele che mi dedica che sono il migliore carino AMR quanto ti piace la storia di Galaxy rispetto agli altri capitoli diciamo che non è la mia preferita non è la mia preferita la zoom 11 3 assolutamente il 3 il capitolo di tutte le ma guarda ma ti rendi conto come hai visto cioè è rimasto con due pesceggi riuscito a fottere forse perché avete ragione voi ha ragione qualcuno di voi tipo Luca Gabriele perché probabilmente lui è stato la mossa dell'espirito guerriero però che palle cioè ma allora non so l'avversario ha tipo super tecnica spiritica per fare un valore del genere cioè è pazzesca questa cosa eppure fallo pure fallo con con zippy che non ho fatto nulla ho fatto una mossa che non prevede manco il contatto e ho fatto fallo incredibilmente vabbè la brida finisce penso qua intanto abbiamo anche appato trina con ragnatela a v5 che non è però l'ultimo livello perché poi avremo anche i livelli con i manuali roba che poi sistemeremo puoi bannare ignazero ignazero no ma non penso che non sta spammando mi ha chiesto il giocatore preferito della vitrologia perché il mio è king prima trilogia bella domanda direi shown però ecco già ci stavo ancora a pensare direi shown vabbè siamo 1-0 e vedete perché io non riesco a battere a grado S questa squadra io ci proverò adesso però il problema è che dovrò provarci con con Arion ci proverò con Arion a fare il gol con la mossa di spirito guerriero perché in effetti sì che la squadra non è ancora molto allenata perché non lo è di fatto ma ormai qualcosa c'ho pure devo dire quindi non capisco come guarda però il wonderbot è lentissimo madonna se è lento devo dire che il wonderbot probabilmente al momento è in campo fa gol se riesce ma lo voglio sistemare come aura di you vorrei fare you mix wonderbot perché non mi soddisfa ora vediamo provo col pugno di pegaso feduma ancora ha due psg non penso che possa utilizzare ancora una mossa in effetti fa molto 1295 cazzo ma è possibile che faccia così tanto la mosferito guerriero Andrea Maiolino è bellissima questa grafica è definitiva per i giovedì di galaxy sì assolutamente l'ho fatta io vi piace pensavo di averla fatto già vedere ma perché ho già fatto diversi video no ma guarda ancora di 40 punti bestia bestia ma cazzarola ma ma perché perché si è così sfigati e guardate che è incredibile sta cosa è incredibile io ora ci riprovo nuovamente via dal cazzo wonderbot ci riprovo di nuovo non ho però più la mosferito guerriero motonna e raga ma vi rendete conto perché io non riesco a fare a grado s non riesco su galaxy i valori sono molto più alti di peta cronostons questo è vero questo non ho fatto conto in effetti forse fa di più con con la mosferito guerriero lo possiamo assolutamente vedere lui fa ponte su nulla ancora una volta e basta hai rotto il coglione hai rotto hai rotto il cazzo ma hai rotto i coglioni veramente ma non si può fare niente è fuori gioco sei vai a prendere la palla veloce se era in fuori gioco a rion sicuro l'ho un po' evitato sperando di non avrei fatto un casino non è possibile non è possibile non riesco pezzo di merda a rion pezzo di merda ma neanche grado argento riesco a fare è incredibile è incredibile sta cosa questo perché non posso usare i totem e purtroppo i i spiriti guerrieri c'è i totem non posso utilizzarli ma i spiriti guerrieri sono ancora pochi la squadra non è ancora al massimo minchia oh minchia oh minchia siamo in 209 intanto vi ringrazio perché comunque la mattina del mercoledì 15 luglio non mi aspettavo di avere almeno 200 persone collegate quindi ci sta sono contento di ciò però cazzo non è in fuori gioco no passa la palla a Yu e tira adesso fai doom non ha più niente ok non mi può parare ancora non può Yu è con Zanark il mix maxato ma è una prova volevo solamente provare i mix max in generale ma è sbagliato perché non è manco allenato Zanark ora vediamo se riusciamo a segnare lui ancora ha potuto nulla fa madonna ma non gioco più adesso io ora non gioco più perché non serve giocare tanto fanno loro oh ma ora voglio vedere a fine partita quanti tiri io ho fatto voglio vedere Sean Frost ti rispondo sì che è la tua domanda anche se preferirei che tu non lo divulgassi troppo io vorrei capire come e quanti tiri ho fatto e di conseguenza quanti tiri mi ha parato sto stronzo di Fedum perché è stronzo avrei dovuto forse fare con Wonderbot prima il tiro vediamo quanto fa debole ma allora sei un figlio di puttana allora sei un grandissimo figlio di puttana Wonderbot ora faccio gol però avrei niente conto cioè Wonderbot stava per non segnare perché ha fatto debole oh Cristo santo ma guardate che Fedum è mostruoso ma a capire perché fare un tutorial di allenamento di Darkroom sì anche quelli ma devo ancora dropparli non li ho ancora tutti insomma tempo al tempo gioco a Galaxy da 46 ore quindi insomma mi è difficile rispondere a eventuali guide o consigli perché sono ancora un pochino nabbo sì Wonderbot è capitano della mezza bestemmia me ne rendo conto voglio sapere quanti punti ha ancora adesso Bylong perché ok facciamo segnare lui adesso almeno portiamo a casa 3 a 0 cioè che comunque è poco è pochissimo cioè vi aspettavate la goleada i 10 gol invece no invece no me l'ha spiegato potessi dirmi i tasti più belli che guarda Galaxy su Citra i tasti importanti mouse mouse e mouse e le frecce della tastiera non c'è altro cioè non è che sono già set up tra l'altro perché Citra ne è molto 3rds quindi già capisce i tasti i più di Amazon questi ce li ho tutti tranne qualcuno mi sembra che Wonderbot ancora no ora vi faccio vedere un po' di cose perché in effetti ho già fatto dei video ma devono ancora uscire quelli su Galaxy e quindi qualcuno non sa come sono cresciuto su su questi su questo gioco quindi ora vedrete tutti i gli aggiornamenti su questo gioco 3 a 0 niente 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 non si riesce sto facendo gli stessi risultati che ho fatto sempre guarda 8 tiri 8 tiri sono tanti 8 tiri amate segno 3 sono veramente tanti vabbè ecco come vedete Wonderbot è ancora il 97 U al 90 e una che ho già reclutato vi farò vedere come reclutare insomma non vi fate domande su come reclutare perché vi farò vedere i video e via perché devo riguardare adesso e perché non l'ho ancora mai fatto cioè nintendo more perché siamo ancora a grado A e io voglio sbloccare quello che è lo scrignetto qua in fondo ma non posso non posso sì allora vi faccio vedere un po' il tutto innanzitutto quando salvo vedete 46 ore di gioco quindi sono andato avanti in realtà un pochino avanti 3 stelline quindi ho fatto anche il segreto vi faccio vedere l'infografica ok eccola qui questi sono ho questi record quindi 69% questi sono i gol no queste sono le statistiche guardate ho vinto 129 partite ho segnato quasi 1000 gol quindi devo dire che sto giocando davvero tanto ho fatto una madonna di tiri insomma qui tutte statistiche irrilevanti ma comunque carine insomma quindi sto giocando davvero tanto sì sto giocando tanto e ora vi faccio vedere pure i gol fatti come vedete ecco Yu 182 gol ha superato pure i buy long da poco c'è anche wonderbot qui da qualche parte con 29 per con la penale reclutato e niente quindi questo vi fa capire quanto Yu stia giocando rispetto all'ultimo video su galaxy ho giocato veramente tanto quindi sì purtroppo però i video sono pre-registrati e quindi non riesco a farvi vedere bene a volte cronologicamente come sta accadendo quindi niente riproviamo e si deve riprovare un'altra volta perché non riesco è incredibile questa cosa siamo in 241 e vi ringrazio per questo risultato epico tutte le tecniche allenate ni ni perché comunque 46 ore sono tante ma neanche tantissime non penso tutto il tuo Yu come lo reputi e il mio Yu non lo reputo così tanto bene perché vedete MixZack ma non fa una sega vedete cosa gli ho passato c'è Zack a 90 ragazzi non ci siamo me ne rendo conto che fa schifo fa schifo però più schifo di Yu c'è Wonderbot c'è Wonderbot è fortissimo in tiro ma non ha manco la tecnica non ha manco l'equipaggiamento non ha niente la grafica del torneo è cambiata salvo purtroppo la grafica del torneo è così fino alla finale lo so ce ne rendiamo conto io e Amedeo col lui che l'ha creata col senno di poi che la mia faccia va a levare il valore in alto a sinistra oltre che un po' lo schermo inferiore lo so ma ormai è così salvo sarà da lezione per il prossimo torneo che ci sarà molto probabilmente ci sarà adesso voglio subito segnare senza se senza ma spirito quello che si attiva ora attiviamo quello di Bailong subito subito viverna bianca omega quindi anche ho giocato off camera si Andrea perché il discorso è questo se io non giocavo off camera ero molto più scarso quindi mi dispiace avevo promesso che giocavo tutto in live ma ragazzi non avrei mai no ma sei una merda sei una merda Bailong peccato ma peccato di cosa eh figlio di puttana beh ci provo io ci provo ci si prova perché no 2000 ho fatto critico sicuro ho fatto eh ho fatto critico per forza dedico il gol a Matteo Spada vediamo se ci riesco qua critico se no lo fa anche lui aaaah sanculo ma vi rendete conto comunque Fedum con la mostra dello spirito fa 1700 è tantissimo eh lo so lo so Nintendo More lo so che le statistiche sono sono un pochino un pochino più difficili da capire in Galaxy perché la freedom va data semplicemente al giocatore in questione e alla tecnica più forte che può avere tipo Wonderbot o 400 di freedom o tutto al tiro però mi rendo pure conto che non lo so se non ci fosse il pregiudizio che si gioca in questo modo ma io giocassi al mio modo io darei un pochino di quel tiro lo darei anche un pochino nelle altre statistiche perché alla fine Wonderbot può caricare un tiro molto alto d'accordo però però ma fa culo Zippy anche te eh cazzo io non attivo niente qua il mio belongo fa 15 mila di valore sti cazzi zippy contro Garro logica vincente provo a passare qua ma non so se ci riesco e ci riesco quando vuole Zippy si impegna purtroppo la squadra è ancora quella che è ecco non potete giudicarmi sulla squadra perché non è ancora niente io ci provo ci provo non posso non posso fare altrimenti purtroppo in Wonderbot non ho non ho spirito guerrero non ho niente provo con una granota impestosa che è la mossa più forte i giocatori possono andare prima del 99 sì ma thread perché non cambia nulla la freedom è quella punto e basta Wonderbot a livello 1 aveva già 40% di freedom le stati non cambiano cambia solo in base alla freedom che tu dai ma vaffanculo ma vaffanculo ma cazzo che palle che palle tattica speciale tattica speciale di merda perito guerriero ora lo uso anche io tattica speciale tanto qui siamo tutti vigliatti e codardi dei conigli quindi ora lo uso anche io testa di cazzo di zanark via 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 la più bassa banca l'asfissiante metti in pausa ok bylong non è in fuorigioco di poco ma non vorrei rischiare quindi la passo a a buddy e bylong deve fare sto movimento però buddy però buddy così no cerca di passare ma quel wonderbot cosa mi significa e wonderbot in realtà l'ho reclutato e ho fatto già anche il video su come reclutarlo e uscirà a fine luglio questo perché c'è davvero un sacco di roba da dover far uscire purtroppo si è protratto fino alla wonderbot però uscirà serve il link segreto vi farò vedere poi come io ci provo con affilato bianco dato che tutti mi dicono che riesco a usare la mosse dello spirito più forte matt red vediamo in effetti ma perché la domanda mia è perché le mosse dello spirito sono così tanto forti perlomeno io penso una cosa ecco sono più forti delle mie tecniche ma quando poi avrò l'armatura al massimo in miximax la freedom le tecniche allenate io penso che siano più forti le mosse senza spirito quando avrò anche il mix quando avrò tutto io penso quando avrò anche i manuali per portare le tecniche a più che il massimo il trio dello spirito è più forte su galaxy ok d'accordo buono a sapersi non lo sapevo si l'armatura è depotenziata infatti questo qua è vero questa cosa qua è un sacco fastidio perché sono abituato a cronostons ed è un altro gioco quasi galaxy rispetto a cronostons cioè devo ancora un po' abituarmi blast la possibilità di baglia di potenti non lo recluti tutto che hai detto con l'idea allenare tofobia eh ma un attimo cazzo un attimo più che altro perché ora sto preparando un video reclutamenti top cioè top proprio senza la parola per chi per chi l'ha capito l'ha capito e tanto tuona fuori quindi spero che non sia sentito un video top sui giocatori più top della squadra quindi sto preparando quel video lo sto preparando non spoiler ma per qualcuno già potrebbe capire chi è chi sono perlomeno quindi devo tofobia arriva arriverà non preoccupatevi arriverà e sarà il mio potere il principale d'accordo come arriverà sui acciarin che è quella ragazzina piccolina bambinetta la metterò in difesa sarà mia proviamo completare il glaciale proviamo dove sei blast mi chiede sasi provincia di genova rimango vago perché purtroppo qualcuno mi ha scoperto dove abito e vabbè niente spero che non arrivino mai a suonare mezzo di notte citofono e passo bravo you bravo you lui ha segnato no quindi 3 a 0 ok ragazzi il tiro dello spirito devo dire che mi sta aiutando un sacco non me l'aspettavo si you non faccio mix top rank ma lo farò mix wonderbot che è il top rank della situazione cioè 500 di freedom ho già deciso you mix wonderbot solo in questo momento wonderbot fa ancora parte della squadra perché non lo so onestamente onestamente non lo so ma pensavo potesse essere forte da dare da avere in questo in questo modo in realtà si che è forte wonderbot ma le stazioni troppo troppo basse poi per il modo di giocare che sclero ma guarda poi fai ste cazzate per il modo di giocare wonderbot non riesco a giocarlo assolutamente non riesco a giocarlo come si fanno i mix su galaxy allora bisogna sbloccare in azuma del passato il pulmino per sbloccarlo bisogna andare alla raymond campo d'allenamento al parcheggio che ci si arriva sopra l'ala ovest sopra la parte ovest dell'edificio principale è tutto e sbloccherete in una piccola cutscene wonderbot con i miximax tanto bravo zippy che vogliono quanto fai in effetti zippy perché comincia a essere interessante 562 con terry fa la mossa volevo provare una cosa forse una cazzata se per fare una cazzata ma voglio provarci io ci provo magari c'è qualcuno che c'è la catena in mezzo non lo so onestamente allora blast con i giocatori dice matteo arrostuto hanno i miximax ideale che concede 3 super tecnica ah lo so spiritica e allora è victor mix by long mi pare può essere o by long mix victor se non vado errato ok c'è anche tiro sonoro in mezzo ma non mi fa nulla penso e vaffanculo vabbè c'è c'è coso c'è quello dei capelli biondi vabbè me lo blocca è giusto così vabbè volevo solamente provare tanto ho anche generato un po' il tiro ma come wonderbot è un altro e sei il decimo anto ti saluto ti ringrazio per essere qua ma io pensavo avevo questa brutta idea che wonderbot essendo un giocatore con il tiro così alto visto la freedom di usarlo in campo in realtà wonderbot lo userò come mix a you assolutamente perché perché sì insomma by long mi sito fa cagare però mi pare che sia ideale e dia super tecnica spiritica per tre potenzialmente il pc più forte è sarges detto anche arculus quello siamo sicuri e devo ancora reclutarlo e ci vuole ancora un po' per reclutarlo perché ci vogliono degli oggetti che non ho ancora tanto ringrazio edoardo marostica che si è abbonato grazie edoardo sono molto contento di ciò tecco illusorio madonna però madonna vabbè non si è sentito per un attimo ma sì per chi non lo sapesse perché si è collegato adesso ho modificato le gif le icone del del gioco buonanotte il pennino della grafica ecco quindi ogni volta quando si scrive o dona o si abbona non è unicito a farlo ma fate come volete si crea questa gif è un pochino più differente io ci riprovo con Yuu adesso perché a quanto pare ragazzi ho scoperto questa live che con le mosse spirito guerriere si riesce a fare i golpi facilmente perlomeno ora poi magari vediamo in futuro faremo un video su quanto guadagni mi chiede Mad ma non guadagno davvero niente anzi in realtà nell'ultimo ecco poi l'ho ben iscritto vedi yeah è difficile da fuori questa gif così Mad non guadagno tanto in realtà nell'ultimo ma potete guadagnare un po' di più ringrazio anche Darkiem che si è iscritto ora dovremmo essere arrivati ormai a 13.000 iscritti quasi secondo me in questo ultimo mese un pochino di più guadagnato siamo sulle tre cifre però non mi va di dirlo perché comunque è un dato personale ma c'è anche da dire che boh non è che guadagno vista quanto ecco giusto poco di più delle tre cifre in un mese in un mese per quello che faccio dovrei guadagnare molto di più onestamente molto di più ringrazio anche Charlie00 che non è comparso in grafica forse perché si è accatastato di messaggi che si è abbonato al canale ecco eh vabbè eccolo grazie Charlie ti ringrazio Charlie Blasto dove abiti e vabbè ragazzi ormai dove abito è sdoganato perché ringrazio anche Simo Vox che si è iscritto ma non è una cosa così rara per dove abito ora diciamo se neanche non sopprete la via magari sarebbe meglio avete visto anche il countdown che c'è in fondo grazie a quello che si è iscritto yeah ufficiale proprio è lui che dura ancora un'ora e zero se la live questo comunque può aiutare può aiutare sapere le domande di quanto dura la live ancora eccola lì yeah ah yeah vaffa il culo vaffa il culo fai doom 5 a 0 fottiti oh se non prendo gol riesco a fare per la prima volta graduarsi questa partita yeah yeah che comesti grazie oh siamo sicuramente 13.000 iscritti adesso eh non voglio una cazzata ma dovremmo sicuramente esserci perché è impossibile che non lo siamo yeah yeah sabel grazie grazie per la descrizione eh io evocherò anche a rion perché non si sa mai eh grazie a me 55 lo so che tu mi segui anche da zio lenne eh yeah antarazzi yeah grazie grazie gli spiriti fanno tanto mi dice tanto a rion se pure a un momento di livello ma tipo fai un una metà delle mosse dipende dal 7 con le stesse super tecniche ne fai almeno 4-5 a spirito è vero questo è vero infatti si spreca davvero tanto le mos spirito guerriero eh senza armatura ovviamente questo lo so insomma anche la cronostone si insegna questa cosa qua c'è da dire che purtroppo io avendo la cuore ancora un pochino scarsa può essere questo il motivo del perché devo per vincere la partita cercarmi ancora di fare le mosse antarazzi ma perché tiri sempre da così con una serie di spam che mi sa che verrà quasi bannato questo ragazzo qua o come questa impressione per lo troppo spam e stai attento perché comunque io leggo tutto provo a leggere tutto non serve che in qualche modo la vostra decisione venga da me attirata li vedo eh perché tiro sempre in questo modo ecco niente è stato sospeso per 5 minuti mi dispiace antarazzi non lo vedi io sto giocando però è come immaginavo purtroppo c'è questa etica qua giusta c'è questa etica qua nel nel canale giustamente se tu spammi arrivi a essere bannato perché altrimenti ci sia stata la chat comunque tiro sempre in quel modo perché riesco a segnare e non segno in altro modo se non in quello e purtroppo devo fare il grado S la sfida e non riesco a farlo Anto sta pure editando tanto ringrazio pubblicamente Anto Smind iscrivetevi al suo canale dovete farlo perché è il grafico di tante copertine non di questa maschera che l'ho fatta io anche se ho preso da lui certi elementi certi spunti però è il grafico di certe copertine tipo l'Egolia Challenge è sua il torneo è suo il segreto che uscirà il capitolo extra è suo Salvatore Tammaro grazie quindi ringrazio Anto Smind pubblicamente ma io l'ho anche già detto ovviamente in privato Wonderbot è lì da Rovaris grazie per l'iscrizione tormenta glaciale boh ci provo tanto ormai siamo già sul 5-0 un gol in più un gol in meno è solo per aumentare la classifica a gol ma comunque Wonderbot sei troppo scarso io te lo dico veramente col cuore sei troppo scarso non fraintendetemi è forte in tiro riesce anche a segnare stranamente ma questo perché Fedum non ha più nulla ma lo userò ma poi anche lei è probabilmente lento cioè questo giocatore è lentissimo perché ha una velocità veramente bassissima lui fa il toro d'accordo Antonio Castaldo è vero Wonderbot è il toro della squadra perché se fosse miximaxato se avesse l'equip insomma sarebbe un giocatore che lo mette in campo con le extra giuste quindi con super tecnica e vento più e un risparmio sarebbe perfetto però io quelle extra non le ho ancora ho trovato per la prima volta un albero più dell'ero della foresta non ho altro uscirà poi una serie vera spoiler ma non del tutto un po' in stile Golia Challenge non lo sa nessuno che stava da qua quindi tutti i primi a saperlo i primi 300 a saperlo che simile a Golia Challenge ma presenti non le Golia ma un drink diciamo ecco però su Galaxy sull'AMICAMO99 uscirà boh ad agosto quella serie devo ancora non ho fatto ancora niente però ieri ho avuto questa illuminazione Inazuma Bokeran si è iscritto e siamo a 13 13.000 iscritti aaaaaa vai vai 13.000 incredibile dovrò fare una live di ringraziamento di 13.000 non è questo ovviamente ma ve la dico è una live di 13.000 secondi mi direte che cazzo stai dicendo vuol dire 3 ore e un quarto di live su Galaxy lo farò me lo sono ripromesso lo farò non so quando può essere anche domani non penso in realtà più si va avanti in luglio e più non riesco poi a fare video quindi devo riuscire a fare la prima di luglio quindi uscirà verso ve lo dico già adesso a voi uscirà verso la fine di luglio prima della fine di luglio una live di 13.000 secondi chi è questo? aiuto non riesco a pronunciare allora arabo l'ho un po' studiato devo essere sincero ma non mi ricordo quasi più niente qualche parola la ricordo tipo shukran grazie shukran ma non so dirti chi è che c'è iscritto va aiuto ma chi è quell'arabetto lì vabbè 13 ore buonanotte 13 settimane la live vabbè è ok ok boomerini no 13.000 secondi è il giusto compromesso così che quando aggiungeremo 14.000 iscritti cosa che chissà 14.000 secondi che comunque sembrano pochi ma 13.000 secondi sono più di 3 ore sono quasi 4 ore di live quindi dovrebbe andarvi bene spero di portarvela non so quando ma prima possibile ora pensiamo a questa che dura ancora un'oretta e mi sto divertendo comunque 6 a 0 e via 13 anni di live eh vabbè ok 13 anni di live è impossibile abdul si è iscritto eh ma può essere lui si oh otteniamo anche lo schema ZAN per la prima volta siamo in 300 300 alla mattina alle 12.15 300 ok mi manca ancora un oggettino ma poi lo tropperò per conto mio qui ragazzi ho preso tutto ma devo farla tanto prima però salvo perché sapete io ho un sacco di salvataggi cioè io se andiamo a vedere nelle eh nell'infografica su 46 ore yeah su 46 ore ho salvato 147 volte se vi rendete conto la mia mania quindi madonna ragalaxy come dice appandroidita purtroppo sono un po' maniaco ma l'ho salvato non ricordo vedete sono un po' un po' possessivo ho salvato o no si ho appena salvato vabbè eh salvo perché per evitare cosine del tipo si blocca la console cosa che è successo dunque team gear ho già preso tutto di questo team gear e che e per chi lo sa può anche immaginare il perché ho preso già tutto c'è un oggetto più importante per un portiere mi fermo qua vedrete poi il video reclutamento un giorno quando uscirà manca un'ora di live ancora ma non ho fatto la 2S quindi devo riuscirlo a fare diciamo che sarebbe importante reclutare Sargeas come dicono in tanti nonché Arculus nonché anche Catora per il mix però sarebbero tante cose in brand da fare dovrei anche fare il reclutamento cominciare a fare qualche extra tipo gli elementi più tipo super tecnica tipo risparmio ma non sono ancora arrivato io non ho ancora il coraggio di fare il micro 99 non ne ho il coraggio eh no volevo provare a segnare senza spirito guerriero ce l'avrei fatta ma si attiva il spirito guerriero di Yu che è il Chione che è già a livello Omega ovviamente e quindi mi tocca segnare che poi vabbè non è un problema anche perché tutte le tecniche comunque vedete le ho già allenate quindi chi se ne frega mi tocca segnare completamente glaciali perché sembra che sembra essere un pochino più più interessante eh come come modalità 1949 ciao Mad vai a mangiare a dopo io sono in live ancora un'ora ora lo vedete quanto dura ancora quindi non è un problema prendi Gundarest Odro che sargi sarà Gundarest mi pare che sia un QR code e lo prenderò con il video di QR code questo video qua dovrebbe uscire molto a breve non so bene quando ma molto a breve uscirà la guida QR code anche se l'hanno già fatta in tantissimi non me ne frega un cazzo cioè io faccio un po' quello che voglio nel mio canale chiaro con il mio modo con la mia spontaneità quindi porterò anche io su QR code assolutamente e c'è anche Gundarest c'è Ruger quindi li recluterò assolutamente con quello metodo lì o poi meglio dire il QR code è lì poi prima che lo recluti magari passerà ancora un po' perché non è immediato io non so ve lo dico adesso ma quando ottengo il QR code di vaffanculo buddy quando ottengo un QR code è di Gundarest devo anche reclutarlo poi eh perché cazzo sicuro eh cioè ogni giocatore che ottengo con il QR code va ancora c'è il blocco solamente la nicocard con il QR code mi pare è questo il problema questo questo è un gran problema perché perché sì diciamo che il video uscirà su quali sono i QR code e come si usa anche su sitra il QR code però di fatto non è facile non è facile è grande se devo pure reclutarlo vabbè insomma io farò vedere solamente l'amico card col QR code e qual è poi basta poi non farò vedere altro poi sarà a me reclutarlo magari in un futuro video basta i miei secondi sono quasi allora andiamo a vedere io non so quanti sono 13.000 secondi quindi mentre io fa gol spero non lo so in realtà potrebbe essere che lo faccia no lo fate il richiamo del lupo no dovevo fare la mossa dello spirito guerriero vaffanculo merda eh mi para mi para sicuro madonna l'avrei fatto gol l'avrei fatto azzo azzo sono confuso comunque allora cerco 13.000 secondi in minuti l'avevo già cercato in realtà ma non me lo ricordo sono 216 minuti ok dunque 2.16 diviso 60 sono 3 ore e 6 quindi 3 ore e mezza circa anche un poco di più 3 ore e 35 farò 3 ore e 35 che tra l'altro è anche record del canale quindi lo farò la cosa che mi preoccupa è che se poi l'andazzo prende bene del tipo 14.000 iscritti allora lì sono altri 1000 secondi che sono più di 4 ore sono 5 e io quello lì non voglio manco pensarci comunque grave errore che ho fatto grave grave errore perché dovevo stare attento sono proprio distratto avrei dovuto usare la mossa di spirito guerrini e non l'ho usata vai zippi dai dai bisogna subito rifarsi qui eh yu vai 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 bravo si mette davanti ragazzi yu è bravissimo si mette davanti al giocatore come dovrebbero fare tutti gli attaccanti bravissimo però dubito che tu riesca a segnare adesso dubito perché è difficile segnare con la mossa non di spirito speciale 100k non ci arriveremo mai 100k è impossibile no 100k è impossibile bravo yu bravo yu l'hai intimorito bravo thumbs up for yu yeah no diciamo che allora siamo seri io penso che potrei arrivare se mi impegno entro maggio 2021 a 15.000 cioè se mi impegno cosa devo dire facendo video poi non sta a me il numero degli iscritti ma sta a chi si iscrive quindi a quanti si iscrivono altre 2.000 persone iscritte però essendo che maggio 2021 potrebbe essere la data della mia fine perché io poi comincerò a lavorare e non avrò più tempo e questo non è tanto perché non ho più voglia non avrò più tempo ea tony f quello vero si è iscritto però ecco il problema è questo che non so però 15.000 potrei arrivarci secondo la mia idea potrei arrivare sarebbe anche un numero bello 15.000 e 15.000 iscritti non sono pochi perché 15.000 oltre ad essere tantissimi come iscritti vediamo quanti sono in 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 secondi cioè in minuti intanto qua facciamo un attimo una pausa rapida sono 250 minuti 250 sono 6 per 4 24 sono 4 ore 10 può essere 4 ore 10 dai però fossero anche 20.000 iscritti 20.000 iscritti vi ho fatto il calcolo che non c'è più tempo yeah Giovanna grazie grazie no fuorigioco via via sei in fuorigioco è in fuorigioco non volevo farlo però forse ora qua sta prendendo la palla vediamo con te con illusoria però yeah Mario yeah grazie blast the best tania gaspari grazie bravo Ario Ario dritto verso la porta dritto verso la porta dritto verso la porta sei da solo sei da solo attiva l'evocazione poi attiveremo l'armatura non penso che attiveremo sei da solo non farti prendere la palla ottimo e tiri col pugno di pegato madonna la madonna di pegato dai 1.350 Robby Red blast me lo dedico un gol se riesco a segnarlo Robby Red volentieri yeah yeah Lucia 1.300 un po' poco aspettiamo un po' di più ma la tonda Ario non è quello che è eeeh Robby Red il gol è per te evviva è per te condividilo su Instagram facci la foto il vocale il gol è per te niente 3 a 0 ci sta per il momento ci sta siamo ancora al primo tempo ci sta la grande ci sta blast lo porti Tsubasa non penso non penso perché non avete idea di allora io ho già registrato per un mese ci sono già dei video precaricati e programmati per il 13 agosto questo perché con l'idea di fare un video ogni due giorni yeah yeah Mattia mi porto tantissimo avanti con la programmazione quindi avere anche di mezzo video di Tsubasa non lo so infatti non l'ho manco comprato non so se lo comprerei mai poi non ho tempo poi sono ingrifato ora con Galaxy cioè non sapete per me è come un bambino nel 2013 che giocava per una volta in Giappone a Galaxy ecco io sono come lui io per la prima volta sto giocando a Galaxy in maniera seria è la prima volta Blast mi saluto il mio amico Igor Miti salutiamo Igor Miti salutiamo Tom Asturbato e salutiamo Franco Bollo e Schiacciatina ok abbiamo salutato tutti la cricca anche per oggi dato che compaiono sempre vanno salutati è forte Wonder Boot mi chiede Do Fix come statistiche di tiro si come generali no quindi diventerà il mix di di Yu sicuramente anzi l'ho appena l'ho anche appena spoilerato quindi è così perché comunque non mi trovo a giocare bene con Wonder Boot onestamente quindi mi troverò bene guarda poi non prende manco la palla perché ha le set talmente basse le set talmente basse che non mi prende neanche la palla perché la presa è bassa come la tecnica è bassa che a volte fa debole come la velocità è bassa che è lento purtroppo è così ragazzi ma che passaggio di merda che ho fatto vaffanculo però riesco a prendere la palla lo stesso ma non passo la tecnica perché comunque schingannevole neutro lui ha il boost dell'elemento e io no vaffanculo penso che neutro più in questo gioco non vada mai utilizzato a meno che uno voglia fare dei set particolari ma usare neutro più non ha senso perché comunque non hai proprio non hai niente insomma non hai il boost dell'elemento e lo stab qui è importante cos'è lo stab se è un giocatore d'evento fin la mostra vento hai capito 20 minuti sono 5 ore e mezza di live mamma mia non ci voglio pensare a 5 ore e mezza di live è tanto sembra poco ma è tanto vuol dire perdere un pomeriggio inizia alle 2 e finire alle 8 di sera è tantissimo per cui cerchiamo di fare le cose un passo alla volta un iscritto alla volta pensiamo un iscritto alla volta Ghiris contro Trina Verdurino lo trovo di foglie vediamo se passiamo noi non passiamo noi ma non è un problema qual è il problema vai 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 eh volevi guardalo lì fierino ti butto giù con bunker asfissiante Luis Cardio di Galaxy direi Terry Terry Archibald by long muoviti no ma guarda Warner Booth ma sei un culo proprio sei un culo mi facciamo la stessa cosa triangolo perfetto bla 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 no però non ho non ho adesso più da poterlo utilizzare ti prego passa Trina ti prego ok perché non avevo più la possibilità di usare tattica speciale perché dovevo aspettare un po' di un cooldown giustamente no ma sei in fuorigioco ma via dal cazzo Riccardo vai tanto lì è fermo vai 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 e se riesci passa la palla by long se riesci no ma non posso perché non ce lo manco eh dai non posso andare all'avversario ma perché 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 che sfiga oh che sfiga che sfiga di partita veramente oh è incredibile questa cosa qua oh c'è quel mona di Yassir Murad che palle che due coglioni non riesco manco a timeutarlo due coglioni veramente non è in fuorigioco vero ok ok spirito guerriero che penso che tu debba ancora di parlare una volta evocazione bene 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 allora leviamo sto sto bravissimo bambino di Yassir Murad che spero di non fare fail no ecco eh ho fatto fail lo sapevo lo sapevo dov'è Anto quando serve dov'è Anto lo sapevo ho sbagliato ho sbagliato perché sto Yassir Murad pezzo di culo ora come si leva come si toglie il Ginascore cazzo mi dispiace Ginascore non l'ho fatto apposta merda merda mostra ce l'ho fatta forse boh no l'ho sbloccato vaffa il culo Yassir Murad rotti coglioni allora filato bianco spero di riuscire a fare questo gol perché mi serve c'è troppa sfiga ho avuto in questa partita Emilio Grimaldi se devi segnare questo gol è per te Emilio dai Emilio dammi la forza Emilio la Genkidama per favore dammi la forza di far suo gol Emilio bravo Emilio bravo Emilio vabbè a parte gli scherzi gol di Bailong 4 a 0 quindi ci siamo perché si è avvicinato al portiere il tiro per santo di potenza lo so ma in questo caso mi sembra che sono avvicinato al portiere o sbaglio poi dipende un po' da come sono messo onestamente se devo fare dei gol veloci ogni seconda è importante mi saluti Gina Scor ti saluto si mi dispiace di averti time mutata per un attimo cioè ti ho non ti siamo anche accorta forse ma ti avevo nascosto per un attimo dal canale vabbè Bailong wonderbot passala bene prendi no peccato sei un culo Bailong vi rendete conto vi rendete conto e se da dire che anche Bailong non ne manco con i 400 cioè non ne manco la freedom non ne manco nulla di freedom penso di riuscire no ma patonna ragazzi ma che palle ma che palle ma che palle Yassir Murad hai rotto i coglioni hai rotto i coglioni ce ne hai proprio sfacassati a metà come faccio continuo a ecco ma guarda vedi vedi come sbaglio poi hai visto e assimilato cosa crei che io sbaglio anche ce l'ho fatta forse oh finchia oh finchia ragazzi guardate che bisogna essere stronzi però eh cos'è la freedom la freedom è il diciamo i punti di statistica che tu puoi dare in totale a un giocatore a difesa di CS dimenticate di CS ma i giocatori qua non si allenano tramite il training point ma tramite la freedom ogni giocatore ha dei punti base di freedom che sono quelli punto wonderbot è quello che ha di più 400 arion poi se ne abbia 200 yuna 200 per dire poi c'è chi ne ha 300 e via di 100 minimo è 200 però mi pare e quei punti statistica tu devi darle alle statistiche appunto fine è molto più semplice poi se hai anche l'allenamento automatico lo fai anche velocemente solo che ogni punto statistica che dai sono 500 punti passione che perdi blast che fai oggi pomeriggio mi chiede Luca Maccarone spero di uscire di casa no no siamo 5 a 0 comunque ok allarme rientrato allarme per fortuna perché se non avessi fatto sto gol alla fine mi sarei incazzato il pomeriggio spero di uscire ragazzi comunque al pomeriggio si esce non è che si sta in casa il pomeriggio di estate si esce anche se qua sembra che tuoni sembra che piova quasi quindi non lo so oh ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatto wonderful è la 99 perfetto lo sai che su tiktok c'è un gruppo che imita la serie di Nazuma si chiama Nazuma Marche dopo se vuoi darci un'occhiata aha aha allora tiktok non lo uso punto uno perché non so io ritengo che a 22 anni e mezzo usare quella roba lì sia un po' anacronistico per me uso instagram solo per il canale per dire quindi sono molto indietro io come cosa non lo userò penso mai tiktok però se qualcuno ha la possibilità di farlo guardatevi Nazuma Marche poi mi direte se ha senso guardarlo anche a me o meno bla secondo me merite molti più iscritti per tutto quello che hai fatto e tutto l'impegno che hai messo in questi anni grazie Sean Frost questo è un bellissimo messaggio allora per la prima volta dovremo battere il team Gar non l'avevo ancora mai battuto quindi spero di spero di farcela alla prima sarebbe bello la squadra non l'ho mai vista quindi la vedremo per la prima volta insieme anche no oddio guarda chi c'è avversario oddio you tutto con max freedom vedete la freedom qui però vedete anche tipo Rocca o i centrocampisti loro risettano dando un po' di freedom domino attacco un po' in tiro mi pare perlomeno loro è la l'artificialità insomma beh c'è you ti sei andata fuori dalla live beh certo no 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 fuori dalla live maestro assolutamente ho fatto l'ho detto all'inizio live ho giocato 50 ore di 50 ore di 50 ore di galax ho giocato fuori live quindi mi sono un po' andato per quanto mio ma se faccio l'abbonamento Daniele possiamo fare le videochiamate Blast mi rispondi si su Instagram se lo voglio su Telegram mi chiami o ci mettiamo d'accordo e mi fai tutte le domande che vuoi questo madonna Yasin Murad ha rotto veramente il cazzo Yasin Murad Dio bono ci vorrebbe mettere utente in timeout per IP però cioè tutti quelli che tutti quelli che hanno appunto l'IP server di Yasin Murad vengono automaticamente buttati vengono distrutti ottico i coglioni cazzo poi non c'è manco un admin so che dovrei fare uno nuovo perché ahimè un po' latitanti che c'è però insomma ce la dovrei fare anche un po' da solo comunque sì Daniele dicevo c'è un abbonamento nel canale che dà la possibilità di videochiamarmi la possibilità c'è basta poi organizzarsi ci si chiama tramite abbonamento Gina score anche tu comunque sei a livello quasi di Yasin Murad un attimo ancora ti ti ma vaffanculo fumo no sta partita comunque è difficile da partita bisogna stare attenti più che altro è difficile giocare con questa squadra perché comincia ad essere troppo scarsa sta squadra qua allora Gina score leggi il mio primo il mio nome per il nome scoregina oh oh porco ragazzi scoregina scoregina vedete no che sto ridendo vedete fa ridere no vabbè sempre questa tecnica qui usano spirito quello che si attiva non il mio Inazuma promo sono i miei youtube preferiti grazie Inazuma promo vediamo se riesco no dai Trina alzati a chiama vediamo se riesco a passare contro De Kiko un rosolo di foglio ci dovrei riuscire forse eh se ci dovrei riuscire questa partita è difficile la partita perlomeno per la mia squadra perlomeno per la mia squadra è difficile by long tutti con te siamo madonna poi secondo me in galaxy si perde palla la gente i giocatori perché prima in cronostones non facevano lo stop così così lento invece ora lo fanno spero di passare non sono passato madonna è incredibile è incredibile che squadra di merda bravo 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 chiunque ci sia bravo tira vedete in questo caso non potevo andare ancora avanti perché era difficile comunque arrivare oltre dovevo tirare punto altrimenti perdevo proprio il tiro affilato bianco comunque è difficile segnare è difficile segnare io faccio 1.220 così poco meno male non fa niente 1-0 gina scorre va bene scusa accettati ma basta spammare scusa per favore questo gol lo dedico a lori sei mitico sei lori grazie ancora scusa basta chiedere scusa gina scorre sei attenta o attento perché per esempio tu sia un maschietto sei attenta perché insomma attento che sia non è che puoi spammare scusa ora per tala live non è che mi sono arrabbiato come te blast io gioco ancora al crono sotto perché non è un SD abbastanza grande per giocare al galaxy e vabbè dai cazzo compratela basta comprare una da 16 e puoi giocare sia al crono che al galaxy non so perché di metterla armatura onestamente potevo evitarmela potevo evitarmela tantissimo anche perché ora è per terra con l'armatura filippo giraldo ciao che hai mix mix con you zanark ma è errato lo cambierò metterò poi wonderbot i mix a you quando poi sarà non ora però e non in questa live e non so quando onestamente perché madonna ragazzi buddy sei stronzo oh niente oh è già la settima volta la settima volta che buddy perde palla in peccato cioè proprio la palla la perde non mi ci metto manco a fare il contrasto ma questo qua diretto dovrei forse farcela io ho fatto un po' vedere moro d'acciaio ok metto in pausa qua e passo la palla a you dai ok tiriamo il pito guerriero e poi tiriamo come sto mi chiede rasvan sto bene per mia fortuna tutto a posto la live dura ancora 40 minuti perché non lo sapesse c'è il countdown non potete sbagliarvi a sto giro quindi durerà fino a luna e un quarto mi pare io ci provo cioè non so ci si prova ci si prova ragazzi andrea maiolino pari del siciliano mi si dia ok ora no mille e due eh usa l'armatura vabbè se usi l'armatura sei stronzo fino al midolo repulsione me la pari sicuro ragazzi queste amiche sono impossibili per me da fare 5-0 per lo meno è impossibile le tecniche sei vedete ma va ma che cazzo non mi dice questa cosa qua perché ragazzi mi offendo se qualcuno mi accusa di cheat mi offendo perché perché ho fatto vedere all'inizio quante volte ho evocato le tecniche quanti contrasti ho vinto con l'infografica che c'è nel record di gioco quanti tiri ho fatto ho fatto quasi 50 ore di live no non è save editor nulla save editor ma non riesco non riesco tanto a non riesco ma poi manco si scordisce l'avversario niente non si riesce ma come si fa come si fa a segnare impossibile tg nick ciao benvenuti in live ci vedremo presto dal vivo veramente io e te dai cazzo dai minchia minchia scarro quanto tempo e ci si riprova ci si riprova maestri con 5 punti con 5 come si fa impossibile ragazzi è impossibile addio mio oddio caro per non dire altro niente ci vedete conto un gol a tempo fatto vai a cagare proprio ora anche tu vai a fanculo miglior youtuber in azuma in italia ovviamente io ma non è per orgoglio cioè parliamo un po' di tutti in azuma corner non porta gameplay ma porta sd no quello è frake no si in azuma corner porta sd mi pare diego e non porta comunque gameplay così strutturati bene di in azuma 11 tube panza non ne manco uno youtuber per me di gara di in azuma 11 ne manco contato frake non porta in azuma 11 mi dite chi c'è di altro mi dite chi è uno o l'altro youtuber che porta gameplay strutturati con delle rubriche di in azuma 11 eh che cazzo ragazzi non è che sono orgoglioso io questo si chiama realtà dei fatti ma underlink non lo seguo ma underlink non so quanto faccia ma allora ragazzi io metto in pausa un attimo perché un conto è portare il gameplay cioè un conto è portare la partita la trama un conto è portare contenuti creativi mi mi pare di tanti ma definitivi mi pare di obiettivi ehm le goliac challenge che usciranno analisi squadre ok un conto è portare il gameplay giocare la trama un conto è portare qualcosa di nuovo ok io è questo la penso così onestamente biorno so chi è lo conosco ma non l'ho più seguito sono proprio sincero ma non penso porti noi parliamo di una zoom 11 all'interno di gioco di di esso non parliamo di una zoom 11 all'interno di 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 rubriche diciamo di talk che non so come posso chiamarle non so come si chiama di podcast di rubrica tema a zoom 11 parliamo di 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 gioco su Nintendo DS ok gioco su Nintendo DS sono pochi io parlo di quello sono pochi non gameplay non gameplay perché a portare la trama anche tuberanza ce la fa a portare la trama purtroppo dico anche lui ce la fa e io quello voglio dire Conrad anche lui caro amico Conrado sta parlando delle reazioni non è che sta giocando non è che sta portando avanti il brand in a zoom 11 sta portando delle reazioni che per carità ben fatto è un ottimo format ma non porti avanti il gioco non dai fa un culo il pennino non porti avanti magari rubriche in cui potresti dare dei consigli non lo so rubriche particolari è questo il discorso Rickix è morto Rickix a proposito non penso che mi stia guardando perché no ma dovrei farci un video con lui ancora proprio parlare con lui anzi ora un po' gli scrivo gli scrivo in diretta perché ho il suo contatto e gli chiedo oh Ricka quando vogliamo fare sto video eccolo qua quando vogliamo fare il video oh perché dovrebbe uscire un video con Rickix proprio che risponda alle mie domande sul perché se ne è andato sul perché ha fatto ha scelto quello che ha scelto eh ho capito quindi devo farci un video con lui però Rickix sai me è morto ma anche lui un tempo cosa faceva il gameplay e faceva i set definitivi chiaro cioè io non è che ho rancore per carità Bjorn Andre Link Conrad Diego tutti in qualche modo portano avanti il Brandon Zoom Eleven ok in un modo più o meno positivo ok più o meno utile non sono io a giudicare l'utilità io però parlo di quello che può essere un un gameplayer in Zoom Eleven che porta un pochino contenuti che si impegna a portare contenuti un pochino più più particolari non trovo purtroppo persone all'infuori di me e questo mi dispiace questo mi dispiace onestamente e tendo a dirti Bjorn con un po' anche di di costanza ok cioè io ho fatto un video al giorno per due mesi su rubriche comunque non semplici comunque strutturate sto facendo un video ogni due giorni comunque anche qua in estate a metà luglio quindi il discorso è è questo ci vuole un po' di costanza mix a sì competizione mix a creatività originalità ok però io ragazzi vi ho sempre detto una cosa ognuno pensa a se stesso a me è brutto da dire perché poi magari dite una blast sei un po' contraddittorio perché in realtà tu pari sempre male degli altri no io cazzo penso a me stesso se voi non mi diceste niente non mi chieste niente io parlo di me stesso io sono Alen questo è il mio nome e parlo di Blaster HD per me Blaster HD è un bel canale perché onestamente mi ci sto impegnando non io YouTube non lo seguo non ammetto di non seguire non guardo manco i miei video cioè io i video li carico li guardo mezza volta per editarli quando ce ne è bisogno e basta hai capito non non ho proprio né il tempo né la voglia anche perché purtroppo contenuti veramente creativi non ce ne sono qualcuno mi chiama al telefono ma non è il momento di rispondere io provo a tirare con sfera di ghiaccio vediamo un po' cosa succede saluto Ari350 appena arrivato ma Wonderboot allora si chiama Wonderboot qualcuno l'ha chiamato Wonderboot e tu Wonderboot tipo barca fantastica e e l'ho reclutato e ho fatto il video e uscirà a fine luglio direi mi direte ma come a fine luglio se hai fatto il video farlo uscire domani e no perché è un video ogni due giorni e io mi sono già portato avanti di qua fino a metà agosto una pazzia sto preparando delle guide particolari per ringraziare i 16.000 iscritti che uscirà già aspetta oggi è mercoledì sabato uscirà una guida molto interessante su Galaxy non competitivamente parlando ma proprio per i reclutamenti quindi poi lo vedrete beh ti ricordi quando l'ecopoggiamento dicevi che serviva solo per l'estate beh in realtà gli scarpini si vedono ah ah si veramente vedete questa cosa cioè se io metto la scarpino stellare non penso cioè non lo so ma se io metto lo scarpino stellare a a buy long che è rosso io vedo il rosso nelle scarpe ma figurati non ci credo ma lo vedo in partita io dico ma che palle fai pure tutti ci metti però dai impossibile allora è 1.3 poco 1.2 diventa diventa 700 diventa ma anche in CS si vedevano i scarpini e guanti non lo so cosa vuoi fare qua e vai oh ragazzi dai 4-0 eh quanto mi manca di tempo quanto mi manca non pensavo di riuscire a fare 5 ma cazzo 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 allora devo impegnarmi bisogna usare subito TS non è team speak ma è pratica speciale subito proprio e dato che è l'ultima chance che mi pongo ah potete essere pure le banche in realtà pausa subito pausa eh però Aaron sei una merda dove cazzo hai preso la palla passiamo la body dietro non perdere palla bene scusate che sono un po' concentrato perché devo riuscire a fare la grado S Wonderbot Bylong Wonderbot Bylong You no pezzo di merda Bylong ma non sono allenati i giocatori lo so lo so che non sono allenati i giocatori lo so lo so che non sono allenati lo so lo so bene che faccio mo che faccio neanche messo male dietro Bylong You quanto hai You quanto hai You non è niente Wonderbot vai Wonderbot no 54 di un punto no no di un punto un cazzo no è impossibile non ce la faccio non ce la faccio che sfiga di merda 9 10 è poco è poco è anche per voler amato portiere è pochissimo no di 40 punti vaffanculo a Bylong vaffanculo ve lo dico con questo pisellino in bocca vaffanculo a Bylong ho perso palla lì in quel momento che potevo segnare devo rifarla devo rifarla che palle e vabbè ste ma team gale che cazzo me ne frega ho perso ho fatto 4 ore devo fare 5 dovevo fare per me come perdere devo rifarla tra l'altro poi si sblocca la lagoon madonna ma se sfide sono veramente difficile se sfide tecnica allenata ragazzi tecnica allenata minchia ho giocato eh ora non salvo ma vedete 47 ore di gioco ho fatto dall'infografica abbiamo che ho fatto 100 nelle 7 partite cioè ho giocato tanto ho fatto quasi 1000 gol guardate quante tecniche di attacco difesa cioè ottenendo quante tecniche di difesa ragazzi sto giocando non è che io sto citando sto giocando fuori live ovviamente quindi come sto come sto allenando giocando ragazzi e questo è quanto questo è quanto niente rifacciamo 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 youtube ciao blast ma non sei quello vero non sei quello vero assolutamente perché io conosco nick e non penso si chiami non si chiama più youtube tra sharp conosco nick e dovrei fare un video anche con lui in realtà per riportarlo per diciamo rendere onora anche a lui dovrei un po' contattarlo alla prossima live daniele faccio abbonamento più costoso detto non meriti se non di più daniele grazie grazie daniele ragazzi io non so quale sia la 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 tattica per riuscire a vincere questo paese 5 a 0 perché ah ma io lo so quella tattica sono scemo ma ho ho victor oppure axel in panchina con lo spirito guerriero in realtà io cazzo non ci dimentichiamo non lo dimentichiamo questa cosa qua fallo fallo l'ho visto e fallo l'ho visto pure io cazzo si vedeva tanto non meglio che era fallo non si è sentito l'audio youtube vabbè non è il vero ma si è scritto youtube tra sharp perché la cassa non mi prende a volte vabbè c'era tipo lo yeah yeah amen e un po' di tattica strategica buddy madonna buddy spirito guerriero no che scherzavo by long non ce l'ha c'ha il totem non posso utilizzarlo questo è anche un po' il brutto di queste partite perché le condizioni non mi permettono di usare il totem no 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 ha filiato bianco boh ci provo e in realtà all'inizio non ce l'ho riuscito nella prima partita giocata vai è subito subito 1 a 0 e via ragazzi 1 a 0 rapido yeah yeah eccolo qua che è arrivato l'audio Tommy on mk si è scritto grazie Tommy siamo ormai sopra i 13.000 iscritti e ve lo dico vi prometto una live di 13.000 secondi che vuol dire più di 3 ore su galaxy quindi non so quando non chiedetemi quando perché non lo so posso presupporre anzi sicuro deve arrivare entro 27 luglio perché 27 90 su 100 io poi parto e da 27 all'8 agosto non ci sono quindi devo riuscire a farla riuscire a farla ahhh fanculo baddi di merda devo riuscire a farla entro mo donno ho sbagliato eh lo devo fare la tecnica ma fanculo anche attack ma chi è attack ho fatto presa dimmi che riesce a bloccare qualcuno no ragazzi ho fatto presa che fail ho fatto presa bravo Riccardo grazie mi hai salvato la vita no no sai veramente quanto mi hai salvato la vita ma comunque cioè comunque mi sto incazzando ma non poco non poco non è possibile sta cosa qua tutte tante che speciali palle che si perdono oh ma dovete fare un'azione non lo so a fare Trina ci vuoi provare o no Trina ti alzi niente TS TS fai un altro lavoro oltre a fare video su youtube Francesco mi sto preparando a diventare insegnante non ancora a titolo ufficiale ed è per questo che a maggio 2021 lo ho detto già da un po' di tempo arriverò probabilmente a stoppare video sul canale definitivamente perché cominciando a lavorare la vedo difficile fanculo anche a Darion la vedo difficile conciliare il lavoro con eh youtube ecco detto potete la terra lavoro vero con youtube anche per io non aspiro a diventare youtuber non è la mia passione di vita diventare youtuber cioè non è non è un lavoro così dignitoso per me diventare e rimanere youtuber la vita c'è chi vuole diventarlo cioè c'è chi vuole essere youtuber la vita fatelo davanti a uno schermo vi divertite così di youtuber la vita onestamente io ambisco ad altro insegnatele elementari ragazzi insegnatele elementari super mario super mario quante visual ha fatto? perché ho detto se faceva 4000 visual ma se facciamo 4000 visual su super mario l'avrei continuato ma onestamente non lo so quante visual ha fatto forse 3000 se va bene tanto qua non ho fatto gol testa di cazzo di bylong e anche di riccardo dai vediamo quanto ho fatto scusate tanto vedere le 13.000 sita la prima volta che lo vedo nel canale dove l'è? dove cazzo è quel video di me? 3000 non lo so non lo so se lo continuerò onestamente io avevo detto continuiamo con 4000 visual però potrei pure continuarlo in effetti tanto è un video che non va a intaccare la programmazione ve l'ho detto quindi onestamente potrei pure continuarlo però pensiamo ora a questa live Uragano Bianco farei mai aggiornamento sulla collezione manga non lo so Nick onestamente perché non è molto seguito quel format lì non è mai stato molto seguito dai dai Bylong non ce la farei mai sì ma ma quante mosse hai? quante ne hai? 1700 ma quante ne hai? oh da questo cappello dal cilindro ne sbucano un sacco di mosse tue Wonderbot all'attacco non fa una sega ovviamente bravo Bylong Wonderbot in fuorigioco no? io tiro perché tiro così faccio perdere punti non per altro so di non riuscire a segnare mai nella vita preferisci n'estetica Bylong o Tesskat? bella domanda preferisco Bylong però attacco on titan sì no Yasimura non cominciare ti ho detto di sì ti ho già risposto con sì ti ho detto sì ok? ti ho detto sì ma vaffanculo dai di poco non riesco a segnare con Wonderbot non pensavo di riuscire a fermare così altamente ma se avessi avuto un mix ma se forse potevo segnare personaggio che più odio direi Asuto anche Asuto Arion Arion e JP andiamo fastidio anche nell'animo onestamente proprio non so se ha senso no vabbè lasciamo stare non facciamo un chiave di giolino perché non serve per quanto io passo qua va di prova a tirare ok va di prova a tirare ci proviamo comunque Yasimurad se è una merda è inculata proprio franculo catapulta furiosa no ma perché ma vedi quando mi fai fare poi assiedi sto cazzo mi fai nascondere i giocatori che non devo ora come si fa a a a levare a levare Emanuele ecco scusa scusa Emanuele niente non sono mai di valore perché stavo sbloccando Emanuele ma io non ho fatto gol quindi questo è importante 21 minuti mancano alla fine della live non so penso di poter fare un'altra parita forse ancora spero non contro il team Gar qua ma se non faccio Grado S devo provarci è il mio dovere provarci Grado S lo voglio fare ragazzi devo fare Grado S perché è importante fare Grado S ragazzi mi hanno dato un po' perché mi danno anche poi il record di gioco mi danno hai visto IQ assolutamente sì assolutamente IQ bellissimo anime anche se non gioco a pallavolo ho scoperto tante cose interessanti su quell'anime lì vai U e buttaci lo spirito guerriero anche se Cito forse non serve lo spirito guerriero ma io ho paura quindi lo userò lo stesso io ho paura e lo userò lo stesso ciao Stefano Schiraldi benvenuti in live e uso proletti del glaciale vediamo se riesco a fare gol Cito non ha più niente Cito eh non ha spirito guerriero probabilmente ha il Mixi Max ma non so con chi quindi lo vedremo lo vedremo repulsione repulsione va fa culo ok fare aeroplano Cito eh sì Cito U 2 a 0 ragazzi devo dire che il primo tempo è sempre complesso perché Cito il portiere in questa squadra ha la possibilità di usare lo spirito guerriero per tutto il primo tempo mentre poi nel primo tempo si affievolisce giustamente dai però eh che cazzo vuole sto non è il mio U questo qua cosa vuoi tu da me sei quello falso questo qui dai Buddy Wonderbat U ci arrivi o no non ci arriverà mai che cazzo fatto che cazzo fatto non ci arriverà mai non ci arriverà mai e non ci è arrivato di fatto ce l'ha fatto qua ad arrivare eh vabbè ma cadono tutti come birilli i miei giocatori cadono tutti come birilli grave errore quello che ho fatto ho fatto un grave errore sport con questo piccolo palla nuoto feci Antonio palla nuoto Franco bravo Franco bravo Franco U qua ci arrivi però eh qua ci arrivi qua ci arrivi e qui forse segni dai 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 polizia del glaciale insegnanti quale materia di tutto all'elementare insegno tutto nella religione tutto posso insegnare cazzo questa domanda me l'avete fatta un sacco di volte ma ancora qualcuno ancora qualcuno me lo fa vabbè dedico un gol a nix ok questo qua è un gol per nix ragazzi 3 a 0 dai ragazzi dai 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 forza forza ora dato che wonderbot mi pare che non abbia più la possibilità di segnare tanto cambia un portiere loro entra babas io metto non so chi dentro ma posso mettere axel si no metto victor altro che axel metto victor perché ci siamo dimenticati ma cazzo abbiamo anche victor abbiamo la possibilità di segnare con lui quindi utilizziamolo mi consiglio un difensore Katia ma di che gioco di galaxy ogar se è difensore non mi ricordo potrebbe esserlo ma comunque uscirà un video non so quando perché quelli devo ancora proprio vederli anche un po' la top difensori che poi in realtà sarebbero i top ranking ok i primi 5 barra 6 giocatori per ogni ruolo forti statisticamente e come freedom su galaxy quindi ragazzi usciranno uscirà con le format anche su galaxy non top 10 ma top 5 o comunque top ranking diciamo quindi non preoccupate devi quanti errori però non dipende da me questo errore beh a sto punto dichiaria di ghiaccio spero di passare minchia singhiozzo e rutto combo pazzesca allora Pabas non ha nulla io ci potrei riuscire madonna ci potrei riuscire a fare stella di ghiaccio quanto fa? la la 3000 di critico ciao non provarci neanche Pabas non provarci neanche via ciao ma basta cerchi mi fa la domanda del cazzo mi chiede blaster come fai davvero a quale 99 hai citato ma no a parte che non è manco a 99 minchia ve l'ho già detto io non cito io vi faccio vedere per la terza volta poi l'infografica dei record di gioco ma ho fatto un sacco di partite mi sono allenato ho fatto un sacco di contrasti un sacco di sfide ho 50 ore di gioco alle spalle che sono ancora poche ma comunque tante in realtà quindi sto giocando fuori live non ve l'avevo detto all'inizio delle gameplay ma sto giocando fuori live chiaro? non ditemi tutti i cheat perché non è vero hai ancora il pennino del DS lungo come cazzo di guai? no ora ho il pennino lungo come il cazzo di blaster no no non è vero ho il pennino lungo quanto il cazzetto di aryon che è un pochino più più grande ma no quello piccolo lì dove cazzo è? mamma mia quella roba lì era un mignolo proprio dove è? l'ho anche perso forse no eccolo qui guarda cioè io vi rendete conto che io giocavo con sta roba qui cioè potete giocare con sta roba qua? incredibile potevo no? allora ho chiesto ma me lo compri? perché mia mamma gioca no ho sbagliato non ho messo lo spirito guerriero ho sbagliato per dar retta al cazzo di JP madonna cara madonna tra l'altro lui è elemento in vantaggio minchia che errore che errore madonna eeeh ma incredibile non pensavo non volevo ancora vedere il ballone perché pensavo di non farcela 5 a 0 ragazzi 5 fottuti gol a 0 wow 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 bene 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 siamo in 302 spettatori contemporanei live ottimo e siamo 5 a 0 bene bene ma subisci gol no fanculo biorno se subisci gol ti banno non devo subire gol non posso subire gol scartali tutti Victor non hai manco una vostra offensiva cosa vuoi scartare niente dai riccardo prendigli la palla ti prego dai non possiamo non ti giuro non possiamo prendere gol non è proprio contemplato anche perché è già la seconda volta che faccio questa parita e a meno che voi vogliate vedere un'altra volta che gioco a questa partita ti fate per me ma io penso di fare addirittura il sesto gol non vorrei tirarmela ma penso di farcela con evocazione di Victor armatura no senza armatura perché non so neanche quale sia la mossa angelo ho perduto la voglio provare nix e fottiti nick scusami non mi segnano però 1.100 è poco 1.100 è un po' pochino caro Victor però non importa perché anche se non facessi gol 5-0 comunque me lo porto a casa ciao ok 6-0 preferisco cesto galaxy mi chiede piccione preferisco galaxy non per il competitivo perché competitivamente parlando galaxy offre molto meno di colonos tons lo vedremo lo vedrete anche voi ma a livello proprio di di divertimento di creatività di robe da fare preferisco molto di più galaxy ok 6-0 via siamo riusciti a battere il team gar vediamo se ottengo pure l'oggetto particolare del team gar sarebbe epico sarebbe epico non ottengo niente evviva e vai nulla dovrò rifarla non poi perché sapete la mia pazzia poi sarà quella di ve lo ripeto sarà quella di avere tutti gli oggetti in ogni amichevoli come ho fatto per il team gear per esempio o come ho fatto per gli arions o come per la protocolla omega tutto però la forza non aiuterà gli audaci e io non sono audace vedremo comunque proviamo prima salvo prima salvo perché io salvo sempre vedete siamo quasi a qua 50 ore di gioco faccio ancora un'ultima partita poi me ne vado a mangiare che è la lagoon in cui non sarà per niente facile perché se era difficile il team gear la lagoon non è per niente facile onestamente perché è anche due livelli più alta e noi comunque la squadra non possiamo manco utilizzarla al meglio perché non abbiamo i totemi sto ancora recutando i giocatori ragazzi sono ancora alle prime fasi di gioco tengo ancora wonderbot in campo perché non ho giocatori diciamo troppo utili c'è simeon cazzarola c'è simeon dall'altra parte c'è anche canis c'è merda eccola qui c'è amstall criceto insomma è la lagoon è classica la conosciamo c'è snoshu ma chi è sta qua sta qua non esisteva nei cronostons snoshu vabbè vabbè bella mattia ti saluto certo ciao blast mario jump consigli di microstare io io pensavo a yurke no ma in cronostons fai un po' come vuoi in cronostons il miximax puoi fare effettivamente come vuoi anche con yurke come vuoi io faccio con shone perché sono i miei due personaggi preferiti ecco bravo bailong cominciamo a far cazzate però in galaxy consiglio con wonderbot che è quello che farò mixerò con wonderbot quello che si attiva attivo quello di bailong io adesso subito a bomba ci vado nello sperare di riuscire a però passala no merda dai due errori di fila in un secondo ma che palle che palle madonna ma non prendo un pallone bravo oh no cazzo di poco andiamo a vedere che abbiamo passato sui da bravo ora tira vai vicino e tiri ma chi è sta giocatrice con le capelli rosa dietro madonna ma giocatrice che non ho mai visto io affilato bianco via rip cuffie ogni tanto le cuffie si ripano ma ragazzi oh mi arrabbio c'è poco da fare mi arrabbio 1.6 non è un brutto valore lui non fa mosse oh ma non so perché la prima il primo tiro che faccio sempre non fa mosse mamma mia meglio così eh 1 a 0 e dico il gol è a fra benassi ma c'è il gol per te wow bene 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 andiamo avanti forza 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 il primo tempo è sempre è sempre difficile da poter poter avanti perché loro hanno il portiere sempre con lo titolo attivato a parte nel primo tiro la parano sempre questa è una cosa che ho scoperto nelle cryptics però ecco tra l'altro le cryptics le continueremo nella prossima live perché questo qua sarà l'ultima parte di questa live dato che il countdown parla chiaro oh ho fatto presa no ho fatto presa perché ho fatto presa con Terry non è che non fa quasi niente di di valore no 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 ti prego Terry ti prego oh ti prego frasi Terry oh no frasi Terry ottio mio ottio mio grazie Terry grazie Terry ma se avessi preso gol me me lo sarei comunque guadagnato grazie Terry basta grazie Terry ti prego meno male wonderbot la passa by long ci si infila in mezzo al portiere che si chiama colt affilato bianco a volte sbaglio a fare presa invece che a fare lo trito guerriero a fare la mossa vabbè allora se fa come prima è gol ma essendo che non fa come prima fa come prima ok non me l'ha mai capitato venito servo Dio blast come faccio a bloccare la michevole di papà di Sor ma cazzo ne so ma cronostones ma ancora CS ma poi le michevole di Sor non sono manco forti io penso che si sblocchino subito con la trama cioè voi aiutatelo perché io non me lo ricordo ma penso che con la trama si sblocca subito assolutamente e Renando mi dite che un gol se lo facevo prima era invece di prima era meglio forse quello che ho appena fatto e non so quanto lo rifarò adesso la palla ce l'ha non è Psitt come si chiama Feliz è vero Feliz Psitt è quel ragazzino dai capelli bianchi col ciuffetto blu bravo ma complimenti wonderbolt complimenti ecco come dice Alan le michevole di Sor si sbloccano proprio la lagun la lag la lagun direi tecco illusorio niente ovviamente quella mossa lì è scarsa come la peste ragnatela potevo fare un troppo di foglie e infatti ma io uso TS adesso cioè secondo te sì sì ma attiva attiva quello che vuoi ma poi che cosa attivi all'armatura sì 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 no 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 madonna ragazzi madonna ragazzi merda 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 culo cane io non pensavo non pensavo che non avesse avuto il tempo di poter parare questo è il karma hai ragione hai ragione schizzo non ce la farò mai a meno che lui fa un tiro normale sto cazzo tiro normale grazie Terry grazie Terry grazie Terry per la seconda volta grazie Terry io non ci speravo non ci speravo perché pensavo fossero un minimo forti capito ora TS me lo fai utilizzare quando non sai ovviamente mamma mia grazie Terry grazie Roma grazie tutto grazie tutto il karma mi ha punito ma lo stesso karma poi mi ha aiutato la butterei così io Terry is broken madonna veramente ma di Terry rimarrà il mio portiere insieme a Tofobia d'accordo perché l'ho promesso ma rimarrà il portiere che avrò in squadra o in panchino dentro perché è troppo forte dovrò micrimaxare con un top ranking che poi comunque ci farò il video su dove reclutarli come chi sono guardate il karma ma guardate il karma dedico il gol a Renandro guardate il karma da 2 a 1 a 3 a 0 dove hai preso il pennino mi chiede Sean Frost su Amazon si compra su Amazon non ci sono ancora su Amazon tranquillamente poi penso che se tu vada all'Uni Euro all'Expert nella Media World girano ancora i pennini direi o comunque i DS in generale mamma mia mamma mia perché Argos come allenatore non lo so cioè intendi il mio allenatore l'ho messo a caso tanto P.T. erano invariati aumentavano un po' la tattica speciale ma gli allenatori andavano ancora un po' capirli perché non li ho ancora tutti potessero parli con una 50 ma ragazzi il risultato parla chiaro 3 a 0 3 a 0 questo è molto buono questa cosa qua grazie ma è un fottore guardate ragazzi dai siamo alla nostra parte io spero che poi il karma non si rivolta contro di me alla fine lo spero no panculo dov'è la palla non l'ho vista più mmm sto tikitaka di merda non prestagisce bene non mi porta bene sto tikitaka non porta bene sto tikitaka bravo ancora T.S. vabbè attivala fai proprio quello che vuoi tanto io poi penso di riattivarla eeeh suca suca bunker asfissiante bisogna fare così bisogna fare se riesci a passare Zippy la passi a Bailong non passi complimenti la passi a Bailong a Bailong dove vai ma perché c'è Zippy qua perché Zippy è in attacco me lo spiegate forse per la tattica speciale anzi sicuro allora no è fuorigioco eh lo sapevo Zippy ma che cazzo ci fai lì con chi è Mixu con Zanark ho detto 30 volte ma ho sbagliato lo farò Mixu Wonderbot quando sarà necessario quando avrò la possibilità insomma ora con calma di farli vai Bailong prendi la palla impossibile vai Buddy prendi la palla bravo ora la passi a sto cazzo di Wonderbot e poi lo passi al mio amico Yu qua che spero che prenda la palla e non la perda perché il passaggio non è proprio perfetto ho la paura che la perda la palla che non la prenda proprio ah invece la prende e via e tiro e tiro con panettina glaciale questo portiere avversario non vorrei gufarmela contro ma non mi sembra così tanto forte onestamente non so perché ma avendo già tre gol nel primo tempo ora vediamo cosa fa con l'armatura invece a 1000 è comunque un valore altissimo gol 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 ti dico gol a zezzo 4 a 0 4 a 0 dai ragazzi dai 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 mancano 4 minuti alla fine della live ma di conseguenza vuol dire la fine della partita ecco anche se dovete durare un po' di più la parita amen non è quello il problema wonderbot aveva potuto fare la proiettina d'aria potrevo utilizzarmi in effetti vai riccardo bravo rikix sono un po' concentrato perché devo far so gol la laguna e poi una parita abbastanza ostica onestamente si che poi dovrò rifarla sicuramente almeno una volta per droppare gli oggetti 100 su 100 però se riuscite a fare un grado s già adesso non mi farebbe proprio schifo vai you bravo you bravo you argos allenatore non lo so l'ho messo per tanti motivi uno perché mi dava fastidio avere zero nessuno allenatore e due perché tanto i pittini totani invariati aumentava solo una tattica mi pare gli dico gol a stefano schiraldi se lo faccio però e lo faccio 5 a 0 ragazzi questa partita ha il fine del karma questa partita ha il fine del karma e Renandro mi dedico un madonna ragalaxi fatto 5 a 0 5 a 0 inaspettato cioè io pensavo di prendere gol due volte invece questa parita ha 0 gol ancora non guffiamocela purtroppo Terry fino a che ha il totem non posso evocarlo e non vedo l'ora di poterlo assolutamente evocare uno spirito guerriero tranquillamente qua possiamo forse fare anche il 6 a 0 vediamo come butta vediamo come butta 5 manga preferiti mi chiede Ismaele allora i manga di Urasawa sono quelli che mi chiamano in più Happy Monster 20th Century Boys Promise Neverland e e e non lo so e Food Wars forse madonna che respinta ha fatto madonna la respinta che ha fatto è epocale ah perché non ha fatto gol by long pezzo di culo non ha fatto gol vabbè non è un problema spero non lo sia TS subito questo potrebbe evitarmelo anzi lo evochiamo così magari sarà anche un po' di livello Arion TS subito trattamento sanitario obbligatorio TSO per Simeon perché non possiamo permettere di prendere palla qui io in fuorigioco che ti sei perso Mimmi ma solo una live di un'ora e mezza che ti sei perso è bella questa domanda quando arriva la fine perché purtroppo la live è stata per terminare il countdown parla chiaro e non vuol dire che fra un minuto quando è preciso io termino però vuol dire che non faccio più partite che saluto e faccio vedere eventualmente la grafica dei gol aggiornata ad oggi vai Franco vai Yu Wonderbot ancora Yu che prende palla e tira con l'armatura io penso che questo è il gol della vittoria è il gol definitivo della nostra vittoria della nostra goleada la nostra tombola contro la Laguna che mi aspettavo fosse più forte sia da poco in porta ma in porta ho avuto ho avuto delle cioè in porta avversario colta ha fatto schifo onestamente in porta mia Terry ha fatto il campione cioè Terry il best champ assolutamente e io dico il gol è a Tezcat che me lo ha chiesto per favore Tezcat ok se no è il gol per te Tezcat è la tino basso è per te Yu Crono Stones Mixed Show è quello che ho fatto io vai a vedere se è definitivo va benissimo 6 a 0 la partita termina dai che termini la partita ok 6 a 0 ragazzi abbiamo fatta incredibile non pensavo io pensavo di prendere gol all'inizio e anche a metà invece l'abbiamo fatta senza problemi 6 a 0 Tezcat non senti di male sono dedicato un gol cazzo oh Scarpini Lagoon ovviamente nulla non si allena niente non trovo l'oggettino che mi interessava della Lagoon ma vabbè ma vabbè intanto teniamo lo stemma e prima di salutarvi vediamo cosa teniamo anche dallo schegno qua a fianco intanto guardate il countdown che sta per terminare ma ciò non vuol dire che ora termina di botto tecnica speciale marcia cascata che direi che è la tattica non tecnica questo devo farci la foto da segnalarlo a Geniv perché è giusto che io segnalo perché marcia cascata non è tecnica ma è tattica lo scrivo è una tattica non tecnica bene bene ragazzi ora voglio vedere qual è la prossima partita voglio vedere che faremo nella prossima nella prossima live minchia ragazzi selvaggi madonna ma questi sono dove i più forti sono mamma mia aiuto ora per chi non ci crede andiamo a vedere il record di gioco perché qualcuno non crede che io faccia i gol guardate ho fatto 195 gol con U tanti altri tanti con Victor tanti con Bailon con Zack insomma basta leggere anche Wonderbolt qualcuno ne ha fatto ma poi passerà in mix quindi niente di partite non fate altre tante ho vinto 109 partite ragazzi questi numeri parlano chiaro per farvi capire quanto io stia giocando in questi ultimi giorni ecco bene ragazzi per i tuoi tiri su Galaxy non le farò e cari usse ma qualcosa di in stile Goliath Challenge e si su Galaxy lo vedremo ragazzi io vi saluto siamo rimasti circa in 280 per tutta la live che è un numero pazzesco sono veramente quindi contento di ciò saluto tutti saluto Epsilon Dario Rocchi Luca Tescate Daniele Simone Lavetti Tommy Shin Gabibbo e tanti altri per oggi è tutto io sono veramente stanco sono morto sono sudato e la live può terminare qua insomma ma alla fine era il tempo che volevo dedicarci saluto anche in Osaka 99 saluto anche Anto oggi ancora saluto Bjorn se è ancora presente e nei fatti c'è ciao Bjorn magari facciamo bisogna capire di cosa perché comunque come vedi io il gameplay che porto sono diversi dalle tue rubriche saluto Camien ciao Giulio saluto Tommy Evidio Raffaele Carius Miki Stiuca Tommy Kino Lucky Santaresse e tanti altri ragazzi per oggi è tutto ci vediamo domani con il reclutamento di Yu e fra tre giorni con la guida speciale per il 15000 iscritti su Galaxy ci vediamo poi prima o poi in live prima del 26 luglio per fare la live di 13000 iscritti che può accadere il 23 il 21 non lo so può essere anche al mattino quindi preparatevi può essere al mattino alle 10 così che io poi per pranzo possa esserci pronto e per non perdere il pomeriggio vedremo comunque ci aggiorniamo ciao ragazzi e alla prossima grazie a tutti grazie per il cajonato grazie per che è rimasto lì fino ad ora buon pranzo